Buongiorno e benvenuti al consueto aggiornamento con le notizie sulle traffico viabilità in aumento soprattutto attorno ai centri urbani per gli spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. Si rilevano molte code sulla tangenziale ovest in area meneghina sulla 4 e questa invece dell'immagine che si riferisce alla 1 alla diramazione Roma Sud con flussi veicolari intensi in entrambe le carreggiate peraltro alla diramazione di Roma Nord ci sono code a partire da 7 bagni verso la salaria dove al momento c'è un veicolo in fiamme che è stato spento comunque con ripercussioni alla viabilità con code per 3 chilometri. Inizio nelle comunicarvi che si è verificato un incidente che sta creando disagi in entrambe le direzioni sulla strada statale 12 del Brennero e della Betone tra Ponte Amoriano e Piagione in entrambe le direzioni. Rimaniamo in area toscana per segnalarvi sulla 11 la Firenze mare e qui è molto trafficata ma è complicata da un incidente tra tre auto in corsia di sorpasso e si sono formate code per 4 chilometri tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione Firenze e infine vi segnalo sulla 30 la casetta Salerno 4 chilometri di code per viabilità esterna congestionata tra mercato San Severino e il raccordo Salerno-Arellino in direzione Salerno. Queste le notizie di maggiori lievo grazie per l'attenzione ed Alessandra canale di RAI pubblica utilità guidate con prudenza e fate buon viaggio buon proseguimento arrivederci